Ciao ragazzi, ciao ragazze, eccoci in un nuovo video, benvenuti. Dunque, ci siamo lasciati alle spalle un weekend davvero infuocato, è successo di tutto. Noi eravamo rimasti al sifuniamento di fiamma, quindi fiamma è stata aggressiva, fiamma mi ha tradita, fiamma ha spiattellato la mia privacy sul tubo, ha divulgato l'intervento di mia madre, quindi l'ho spanculata per questo motivo, ma fiamma finalmente ha deciso di parlare e la situazione, soprattutto ieri sera, è degenerata. Ma andiamo con ordine. Dunque, fiamma decide di pubblicare un video in cui ci racconta come sono andate realmente le cose e decide anche di farci ascoltare tutti i suoi audio per dimostrare che lei non è stata assolutamente aggressiva nei confronti di Chiara. Quindi ci racconta che lei, la mattina di questo famoso intervento, si è sentita con Luciana che appunto l'aveva informata di questo post che avrebbe voluto pubblicare per farle sentire un po' la sua avvicinanza e Luciana, insomma, aveva accettato, non era rimasta felice. Successivamente, però, Chiara le invia un vocale per dirle che Gnomola aveva informata di questo post e, insomma, non era assolutamente rimasta felice. Fiamma, però, ragazze, a differenza di quello che ci ha raccontato Chiara, io l'ho trovata davvero tranquilla, non l'ho trovata assolutamente arrogante, anzi, le ha addirittura chiesto scusa, le ha detto anche guarda Chiara, se quel post vi dà così fastidio posso rimuoverlo, anche, insomma, se l'ho fatto con le migliori intenzioni. E poi tua madre è una donna in grado di intendere e di volere, quindi io non capisco perché avrei dovuto chiedere il permesso a te. Ecco, quindi, in questo caso, effettivamente, devo dire che Fiamma non è stata prepotente con Chiara, ecco, le ha parlato davvero con molta tranquillità. Comunque, sempre in questo video, Fiamma propone a Chiara di far sentire, invece, i suoi di audio, perché è stata proprio lei, quindi, ad essere aggressiva nei suoi confronti. Cosa succede dopo? Dunque, sempre Fiamma ci racconta che lei principalmente si sentiva con Davide, che lui la chiamava spessissimo, soprattutto, insomma, perché voleva sempre dei consigli da lei, voleva sapere, insomma, l'argomento che avrebbe potuto trattare nelle sue live, quindi Fiamma dice che lei è stata sempre molto vicino a questa coppia e che si è beccata anche parecchi insulti per difenderli e, alla prima occasione, Chiara, insomma, l'ha sifuniata e si è rivelata per quella che è. Cosa succede dopo? Dunque, il giorno successivo, ragazzi, compare un post sul canale di Luciana, in cui la stessa Luciana, magicamente, inizia ad attaccare Fiamma e le rinfaccia di non essere stata una buona amica perché, insomma, raccontava tutte le sue confidenze a Chiara, quindi facendo passare un po' Fiamma da infame. Subito dopo, Fiamma pubblica un post sulla sua di community facendo intendere che, in realtà, fosse la stessa Chiara smanettare lì con il telefono di Luciana. Non passa molto che Chiara decide, insomma, di aprire una live e ci tiene a precisare, innanzitutto, che è stata Luciana a scrivere quelle cose e lei non c'entra nulla e dice anche che Fiamma sta cavalcando l'onda che, in realtà, insomma, pensandoci bene, è stata proprio lei che ha fatto di tutto per farsi mandare a quel paese perché voleva allontanarsi da loro e decide anche, quindi, di farci ascoltare tutta la conversazione di quel giorno. Però cosa succede? Lei mette subito le mani avanti dicendo che era comunque molto agitata quindi dobbiamo capirla perché, insomma, sua madre stava subendo un intervento e Fiamma gli era molto insistente era molto, come dire, invadente nell'inviarle questi messaggi e dice che addirittura l'ha torturata l'ha tartassata comunque, finalmente ci fa ascoltare questi famosi audio in cui, insomma, sentiamo Chiara a chiedere spiegazioni di quel post che Fiamma aveva pubblicato dice che questa cosa non gli è piaciuta per niente se voleva far sentire la vicinanza a sua madre voleva farle una telefonata non doveva sbandierare, insomma, tutte le cose su YouTube che è stata irrispettosa doveva chiedere il permesso a lei o a Davide ci tiene a precisare, anzi a sottolineare che quella è la sua di madre che Fiamma non fa parte di quella famiglia e poi conclude dicendo, insomma, che si è rivelata per quella che è che non è mai cambiata è sempre quella di allora insomma, tutte queste cose finché non la manda a fan bagno ecco, quindi devo dire che Chiara era abbastanza agitata comunque, ad un certo punto sempre in questa live Chiara rinfaccia anche a Fiamma che le inviava ogni singola conversazione di Luciana anche, insomma, ogni suo commento ogni suo movimento su YouTube dice che una volta le due, insomma, avevano anche litigato e quindi avevano avuto questo disguido quindi inizia a mettere un po' in dubbio la loro amicizia diceva, ma forse non eravate poi così tanto amiche ma chissà e poi comunque lei sempre Chiara dimostrazione che non è stata lei a scrivere quel post sul canale di Luciana quello in cui in pratica la madre attaccava Fiamma dicendole che non era stata poi una grande amica perché riportava tutte le cose a sua figlia bla 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 Chiara comunque, appunto per dimostrare che non era lei ci fa ascoltare il vocale di Luciana in cui dice, insomma, che quelle cose le ha scritte davvero lei e che in pratica lei era anche arrabbiata perché aveva anche consigliato a Chiara ragazzi non ho capito in pratica Fiamma aveva consigliato a Chiara di portarla da qualche specialista perché appunto lei si approcciava con persone particolari su YouTube insomma una cosa del genere quindi queste sono sicuramente cose che Chiara avrà riportato a Luciana e Luciana si è imbestialita comunque io la cosa che secondo me è assurda cioè rendiamoci conto quella Luciana era in un letto di ospedale dolorante che aveva appena presumo subito quell'intervento e loro si mettono lì madre e figlia ad inciuciare per le cose di YouTube io davvero ragazzi questa cosa l'ho trovata allucinante vabbè comunque Chiara continua ad attaccare Fiamma sempre in questa live dice che deve vergognarsi perché ha fatto una pessima figura dice che non sa cos'è l'amicizia ad un certo punto mette anche in dubbio il suo disturbo borderline perché dice che secondo lei Fiamma non ha avuto paura dell'abbandono perché insomma è finita la loro amicizia e poi vabbè ci tiene ad un certo punto a specificare che suo marito non ha assolutamente mai avuto bisogno del sostegno di Fiamma nelle sue live dice che lui la chiamava ma come ha sempre chiamato tutti i moderatori anzi dice che era lei che gli telefonava che gli scriveva spesso e lei dice che però da moglie insomma non era assolutamente gelosa di questa cosa e poi dice anche che forse forse insomma era Fiamma insomma che si era invaghita di Davide ma chissà e poi ad un certo punto vabbè le rinfaccia nuovamente di aver messo i coricini ai commenti negativi contro di lei soprattutto quello rivolto lì ai gemelli lei dice che insomma fa schifo che deve vergognarsi è cattiva la chiama anche gatta morta che è solo una falsa dice che l'ha solamente usata ora lei vuole passare da vittima per fare insomma qualche visualizzazione e poi chiude ringraziando il moderatore ignomo per averle fatto aprire gli occhi su questa donna dice che l'ha liberata addirittura dal male e lei comunque spiega che non vuole fare più dissing non vuole fare più live guasta quindi ognuno per la sua strada cosa succede però subito dopo dunque fiamma sulla sua community ragazzi pubblica degli screen di tutte le chiamate di Davide tutte le chiamate in entrata e devo dire che erano davvero tantissime cioè in pratica Davide la chiamava persino quando fuori c'era il temporale e lui insomma siccome è a paura dei tuoni lui voleva essere rassicurato da fiamma quindi insomma fiamma con questo post ha voluto dimostrare che non era lei che lo cercava bensì lui no ok e scrive anche che sempre fiamma in questo post scrive che con Luciana lei aveva davvero una certa confidenza tant'è che quest'ultima le aveva anche parlato del periodo buio che Chiara aveva dovuto affrontare ad agosto quando ricordate lei era sparita per un determinato periodo da youtube ecco fiamma dice che lei di questa cosa non ne ha parlato mai né con Chiara né con nessun altro e quindi dice che la loro era davvero un'amicizia sincera al contrario di quello che invece aveva appena detto Chiara nella sua live comunque ribadisce che vuole stare alla larga da lei che dice insomma per campare le resta solo youtube inizia a dire che con il pigiama lei si presenta nei video si presenta nelle live quindi inizia a mandarle qualche frecciatina e in serata ecco che Chiara apre una live intitolata non avrei mai voluto dirlo ma sono costretta sono stata costretta a una cosa del genere comunque lei si presenta molto seria molto provata dice che ha letto il post di fiamma che sicuramente quello insomma che le è successo il mese scorso quindi ad agosto dice sicuramente adesso fiamma lo sa quindi verrà fuori perché chissà quante persone l'avrà raccontato quindi Chiara in pratica ha deciso di parlarne lei per prima soprattutto per i suoi denti affezionati e ci inizia a raccontare quello che le è successo in pratica dice che lei era appena tornata dalle vacanze era sul letto non ricordo con il gatto comunque mi sembra e toccando il seno si accorta di avere un nodulo e molto spaventata ha chiamato il dottore per fissare un appuntamento per essere visitata quando appunto il medico la visita le chiede ma com'è possibile che non ti si accorta mai di nulla dato che hai un bestione così grosso e le prescrive subito un'ecografia mammaria bilaterale lei lì insomma inizia a piangere perché ricorda appunto quel momento dice di essere stata davvero terrorizzata era molto spaventata comunque dice che lei prova a prenotare la visita insomma questa ecografia e l'appuntamento era per fine settembre così lei decide di chiamare sua cugina che la mette in contatto con un oncologa così insomma da fare questa ecografia il prima possibile quindi ad agosto fa questa visita privata e la dottoressa le dice che in pratica è un nodulo un nodulo di grasso dice lei nulla di che quindi un lipoma che ora in pratica si è riassorbito e dice che gli è stato consigliato di fare una mammografia di fare sempre prevenzione lei dice di essere scoppiata a piangere perché aveva avuto paura insomma di avere un brutto male paura soprattutto di morire e ci racconta che insomma è stato davvero un periodo terribile perché vedeva suo marito distrutto pregava quindi dice ecco perché lei è sparita da youtube perché insomma non aveva la testa per fare video per fare live dice che ne sono state dette tante sul suo conto lei però ora insomma non accetterà mai le scuse di chi ha speculato su tutta questa cosa ad un certo punto per farsi credere insomma ci mostra anche le prove quindi tutti i referti tutte le ecografie dice che che ha pagato tutto lei quindi dice che non è vera neanche la storia che lei ha quella famosa esenzione e dice che anche in questo caso è stata diffamata ingiustamente però insomma lei ormai non ci perde più tempo con queste cose perché dopo il periodo difficile che come dire insomma che l'ha tormentata lei ha capito le cose davvero essenziali della vita poi torna ad attaccare ancora fiamma perché dice che con quel post ha tirato ha tirato fuori insomma questa questa sua situazione che lei voleva tenere per sé dice che l'ha sbeffeggiata che l'intenzione insomma di fiamma era quella di farla litigare con sua madre perché appunto le aveva rivelato le aveva confidato questa questa sua situazione no? dice ma non sarà assolutamente così perché appunto Chiara ha capito che Luciana era in un periodo così magari di sconforto in cui vedeva sua figlia stare male quindi si è voluta confidare con un con un'amica ecco tutto qua e e continua sempre dicendo che fiamma si è rivelata per la persona perfida che è perché appunto ha divulgato questo suo problema e in pratica quindi l'accusa di voler mettere zizzania tra madre e figlia allora ragazzi io se devo essere sincera non so non ci ho visto l'intenzione di di rivelare insomma quel segreto secondo me fiamma in quel momento voleva solamente dire ecco tu hai detto che io e tua madre non avevamo un vero rapporto d'amicizia non eravamo poi così legate quando invece lei mi ha confidato cose importanti personali e di famiglia ecco io sinceramente questo ho percepito leggendo quel post cioè secondo me non voleva spiattellare la sua situazione boh magari mi sbaglio però io ho percepito questo comunque Chiara chiude questa live dicendo che ha visto la morte in faccia che appunto ha avuto davvero paura e invita tutte le persone a fare prevenzione dall'altra parte poi cosa succede Fiamma pubblica un nuovo post sulla sua community accusando Chiara di aver recitato in quella live di averne sparate tante che si fa anche schifo di aver moderato il suo canale dice che ha strumentalizzato il suo dolore e lei dice che tra l'altro insomma non ha mai sentito in quel periodo Davide disperato ecco e questa cosa l'hanno notata molti utenti infatti molti si sono chiesti come Davide abbia potuto fare live spenserate in quel periodo se davvero era così affranto comunque sempre in questo post Fiamma invita Chiara ad andare da uno specialista perché è una bugiarda patologica è una donna davvero cattiva che vuole solo manipolare il prossimo ecco ragazzi insomma questo è quanto diciamo che è stato un weekend davvero movimentato di quelli che piacciono a noi non so io sono convinta che questa faccenda ancora non lo so non è stato messo un punto a tutto a tutto questo anche se Chiara insomma ha dichiarato di non voler più parlare di nessuno ecco secondo me ne vedremo e sentiremo delle belle poi sempre ieri c'è stata una live di Fate ma ragazzi veramente ci vorrebbe un'altra ora per parlare anche di questa live quindi magari ve ne parlerò in un altro video comunque questo è quello che è successo ieri davvero insomma le cose principali io intanto vi saluto vi abbraccio forte vi auguro buon inizio settimana a presto baci